Voglio collegare con due ragazzi che sui giovani hanno fatto molti soldi, gli uno più una, li abbiamo qui stasera a Paese Reale, eccoli qua, buonasera! Ciao ragazzi! Io sono uno e io sono una e insieme siamo gli uno più una! Ma che meraviglia! Uno, io più una, io sono noi! Ma che bello vedere due ragazzi, allora come stanno i vostri tutori lì dietro? Come? Dottor Mazzaresi! Avvocato D'Angio, salutate il signore! Buonasera! Balletto! Spettacolare! Ah ragazzi voi se non sbaglio avete 14 milioni di followers, dico bene? Sì! Siamo l'ottavo stato più popoloso al mondo! E il nono per PIL! Ecco va bene, quindi avete la possibilità di influenzare un sacco di giovani! Sì! Per ogni milione di views piantiamo un albero! Così un domani puntiamo al settore del legname! E questo è bellissimo ragazzi, però voi affrontate mai certe questioni con i vostri follower? Cioè tipo che ne so, voi parlate con loro di gender per dire una cosa... Che succede? No, vi stavo chiedendo se magari avete mai fatto un video sull'omosessualità, un tema del genere... Che poi l'avvocato D'Angio si arrabbia! Ah perché alcuni temi vi sono vietati, proprio non ne potete parlare? Ci sono alcune parole che non possiamo pronunciare, per esempio la parola con la N... Quella con la O... Quella con la P... Quella con la Q... E poi quella che finisce con... Rie Weinstein! Che succede se le dite? Succede che ci demonitizzano! Cioè vi demonizzano? Ma chi? I cattolici? No! No! Ci demonitizzano! Ma che vuol dire? Che vuol dire? Ve lo spiega l'avvocato D'Angio! I termini sopraindicati sono quelli che ci fanno uscire dei video correlati a Peppa Pig Un video non monetizzato equivale a una perdita netta di 3 milioni di euro Urca no! E allora no! Non le dite! Ma quindi di cosa parlate nei vostri video? Dipende! Da che? Da che dipende? Dai nostri avvocati! Avvocato D'Angio, di cosa dobbiamo parlare? Abbiamo perso il 2% nel cluster arcobaleno Vai con la canzoncina P sta per mamma, M per papà Per noi la famiglia non ha diversità Lucidissimi come sempre! Grazie a gli uno più una! Veramente un contributo straordinario! Ciao ragazzi! Sì, ciao! Iscrivetevi al nostro canale! Ciao! Mettete like! Eh non mancheremo di fare... Che deve fare? Devevi mandare una lettera per iscriverci al canale! Stanno bene però, questi ragazzi mi fanno ben sperare!